Shalom, shalom, shalom Eccoci qui con un'altra lezione breve e questa sarà la continuazione della lezione che ho fatto ieri Mi sono messo un attimo, lo spirito mi ha guidato così a guardare video e ho visto che c'è una spiegazione che dovrei fare sul libro di Isaia, capitolo 19, versetto 18 che abbiamo letto Prima di iniziare, come sempre, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Mi do più onore agli apostoli e anziani della Gretzmiostone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala Eccoci qui, stavamo parlando ieri che bisogna conoscere il vero nome del Padre Ok? Il vero nome del Padre è Yahawa E il vero nome del suo figlio è Yahawa Shai Ok? Il versetto che non mi ricordavo era il secondo Timoteo Anzi, andiamolo a prendere Era il secondo Timoteo Se non sbaglio Adesso, il secondo Timoteo, capitolo 2 e 2.16 Vediamo Ok? Sì 2.15 in realtà Dice Studia per mostrarti approvato a Yahawa Un operaio che non ha bisogno di vergognarsi Dividendo giustamente le parole della verità Noi dobbiamo dividere le parole della verità Visto che è un regno governato dai malvagi I malvagi hanno tutti dei dei, come dicevo ieri E ogni paese ha il suo Dio E conoscono il nome Ok? Noi non possiamo andare dietro a nomi falsificati dai nostri nemici Dobbiamo studiare e cercare queste cose qui Infatti, qui avevo letto In quel giorno Questo è Isaia 19.18 In quel giorno, cinque città nel paese d'Egitto parleranno la lingua di Canaan E giureranno all'eterno degli eserciti Ok? Uno sarà chiamato la città della distruzione Ok? E qui Quello che vuol dire qui Io volevo dire Parlare più su questa città di Egitto Questo non sta parlando dell'Egitto antico Sta parlando dell'Egitto futuro Ma la parola Egitto in sé vuol dire Terra di schiavitù E poi qui Proprio il senso è In quel giorno Cinque città nel paese Della schiavitù Perché Noi israeliti siamo sparsi In diversi paesi oggi Soprattutto nella Babilonia Nella Babilonia Ok? L'Egitto moderno Che è in America Ok? E ce ne sono diversi paesi Come qui in Italia Ci sono alcuni santi In Germania In Olanda E ovunque che saremo Cominceremo A riparlare la lingua di Canaan Ok? Perché la terra di Di Israele In sé Era una terra Che apparteneva ai figli di Canaan E questa terra è stata presa Attraverso Diciamo La maledizione Che ha fatto Noè Perché Noè aveva tre figli Shem, Japheth E Canaan E Ham Scusatemi E Ham ha avuto un figlio Che si chiama Canaan Mi sa che è il suo Primo genito Canaan è stato Maledetto Per aver visto La nudità del suo padre Senza coprirlo E sì Sarebbe stato Uno schiavo Per tutti Per sempre E la sua terra È stata presa È stata data Nelle mani Dei figli di Israele E quella lingua Che si parlava In questa terra Che è Israele Di giorno d'oggi Si parlava La lingua Ebraica Antica Ok? E questa lingua Abbiamo tantissimi Insegnanti I apostoli I apostoli Anziani Della Great Mewstone Molti lo parlano Benissimo Infatti Hanno dovuto Il padre Ha dovuto Dargli la conoscenza Di questa lingua Per decifrare Delle Delle bugie Calunie Che hanno messo Insieme I figli dei malvagi Per farci capire Meglio queste scritture Oggi Infatti Noi non potremmo Chiamare il nome Del padre Senza Usare Questa lingua Di Canaan Che è L'ebraico Antico Ok? Perché i nomi Che avete fuori Oggi Sono nomi Grecchi E nomi Degli altri paesi Ma il figlio Del padre È Israelita Ok? Ebreo E il padre È il re Dio degli ebrei È il dio Degli ebrei Infatti Prendiamo una scrittura Che è nel libro Di Atti Ma non Ok È un Quindi Libro Ok Libro di Atti 26 14 Ati 26 14 Che è molto importante Conoscere il nome giusto Del padre Ok? E chiamarlo Ok? Questo è Quando Paolo Prima di essere chiamato Paolo Si chiamava Saul E gli è apparso Yahawashai Quando andava a perseguire Gli ebrei Coloro che seguavano Yahawashai E qui sentiamo E quando fumo Tutti caduti a terra Udì una voce Che mi parlava E diceva In lingua Ebraica Saul Saul Perché mi perseguiti? Ti è difficile Calciare contro Le punture? E io dissi Chi sei signore? E lui disse Io sono Yahawashai Che tu perseguiti Ma in che lingua Lo ha detto? In ebraica Nella lingua ebraica Perciò non possiamo Dare un titolo Greco Un titolo Yahweh Un titolo Jehovah Di queste Calunnie del mondo Non possiamo dare Un titolo Che non è Al padre Il suo vero nome È Yahawai Il vero nome Del suo figlio È Yahawashai Qui non ha detto Che lo ha parlato Nella lingua Nella lingua Greca O romana Ok? Poteva parlarlo Nella lingua romana Perché Saul Paolo Era Un israelita Della tribù Di Beniamino Ma Lui Come si dice Ha la cittadinanza Romana Anche Ok? Perciò lo poteva Parlare bene Nella lingua romana Visto che lavorava Per i romani Ma non ha fatto così Lo ha parlato Nella lingua C'è un motivo Perché hanno Scritto qui E diceva In lingua Ebraica Ok? E l'ha detto Il suo nome Io sono Yahawashai Non l'ha detto Che io sono Gesù Io sono questo Lo ha detto Nella lingua Ebraica Perciò Torniamo Dove eravamo Questo paese Si intende Nei paesi Di schiavitù Infatti Noi siamo In schiavitù Giorno d'oggi Ok? Perché siamo Sotto Il comando Dei figli Dei malvagi Non riusciamo A osservare Tutti i comandamenti Alla pienezza Affinché tornerà Il nostro rendentore Yahawashai A liberarci Perciò È importante Conoscere Questi nomi Ok? Sono le chiavi Ignorate coloro Che dicono Ah basta fare bene Basta amare Il tuo prossimo E No Ce ne sono Ben 613 Comandamenti Nelle scritture Dobbiamo Osservarli Al meglio Della nostra capacità Ok? Come dice Il libro di Giovanni 14-15 Se mi ami Osservi I miei comandamenti Detto questo Volevo Tirare fuori Questo punto qui Per dare più chiarezza E detto questo Spero che Siete stati edificati Lascio tutto Nel sacro nome Del Padre Yahawa Nel nome Di suo figlio Il nostro rendentore Salvatore Yahawashai E nel nome Dello Spirito Santo Rukah Kodash Miei doppi onori Agri Apostoli Anziani Della Great Mewstone GMS Per avermi insegnato Questa verità Che è la pura verità Pace e saluti Agli eletti Della casa Di Yasharala Yasharala Vuol dire Israele E vedete Questo vi fa capire Lo stesso Yasharala Nella lingua Antica ebraica È Israele Ok Detto questo Dico Shalom Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima